Musica Questo appuntamento prima di tutto è molto importante perché per la prima volta una provincia insieme a un'altra istituzione che l'università non dobbiamo dimenticarci che sono due istituzioni che formano i nostri giovani, i giovani del futuro l'obiettivo è proprio questo, incentivare la cultura perché oggi si parla tanto di pari opportunità ci sono tanti libri, scritti eccetera però vediamo sul territorio soprattutto e vediamo concretamente come funzionano queste pari opportunità e che cosa sono perché se ne sente tanto parlare ovviamente ci sono fiumi e fiumi di libri e di scritti però vediamo concretamente come funziona e quali sono le problematiche Presso di noi possono benissimo compilare la domanda e poi venire a fare verso di noi il tirocino quindi il là è l'inizio Per il momento non l'abbiamo messo proprio perché vogliamo sondare il terreno e vedere le adesioni successivamente poi faremo il successivo passo avanti nell'individuare anche dei numeri limitati se ovviamente c'è questa grande ampiezza di persone che vengono da noi Per il momento è libera perché è giusto che si lascia a tutti quanti la possibilità di poter conoscere perché il nostro obiettivo è quello far conoscere le pari opportunità che cosa sono, come funzionano anche perché purtroppo non diciamo ce ne sente sempre di più il bisogno visto i vari casi che ci sono di discriminazioni, mobbing sul posto di lavoro Noi adesso abbiamo iniziato questo sit-in perché comunque l'azienda non ha mantenuto le promesse fatte durerà fino a che non avremo comunque delle risposte concrete Noi la domanda che facciamo alle istituzioni, al nostro amministratore è quanto viene fatto il pagamento, il cronoprogramma per ripristinare l'impianto e ritornare al lavoro visto che fino ad ora il cronoprogramma che è stato fatto sui tavoli regionali e provinciali non sono stati rispettati vogliamo comunque un cronoprogramma serio, fatto come si deve perché comunque fino adesso ci hanno soldi perso in giro le istituzioni sono complici di questa disfatta della Samte anche perché noi vediamo che i sindaci che devono pagare il dovuto alla Samte non lo pagano anzi hanno votato anche la liquidazione della messa in liquidazione della Samte in modo da non pagare più i debiti che avevano comunque accumulato in questi anni Noi chiediamo delle risposte concrete, ritornare al lavoro ed essere pagati il dovuto perché con 400 euro al mese noi non sappiamo come campare noi non sappiamo come campare la provincia invece con questo sistema è stata anche lei complice perché non ha dato risposte concrete ci ha detto che venivano dati dei soldi per mettere a posto Sandalcancelo poi alla fine non è stato più deliberato tante promesse che non sono state portate avanti e quello che noi pensiamo tutti quanti della Samte è che loro vogliono smembrare questa azienda ci hanno messo in condizione di essere proprio alla fame da smembrare questa azienda e poi vendersela comunque a qualche privato questo è il nostro pensiero, può essere buono o cattivo quello che sia comunque ci mettiamo anche le nostre responsabilità Il 22 febbraio di 15 anni fa moriva Monsignor Luigi Giussani fondatore della Fraternità di Comunione e Liberazione in vista dell'anniversario come ogni anno le comunità in Italia e nel mondo ricordano il suo fondatore con la celebrazione di una messa a Napoli come nelle altre città italiane e nel mondo in cui si è commemorato Don Giussani si è pregato con una messa solenne presieduta dall'Arcivescovo di Napoli il cardinale Crescenzo Sepe nella cattedrale partenopea Don Giussani nel 1989 contribuì alla costituzione del Banco Alimentare nell'87 fu poi nominato consultore del Pontificio Consiglio per i laici nel 1988 tale organismo riconobbe ufficialmente l'associazione laicale Memores Domini nel 1994 fu nominato consultore della congregazione per il clero e l'11 dicembre del 1997 il suo testo Il Senso Religioso fu presentato nell'edizione inglese al Palazzo dell'ONU di New York Gesù Cristo a chi vive l'angoscia per la propria situazione di fragilità, dolore e debolezza non impone leggi ma offre la sua misericordia, cioè la sua persona ristoratrice le parole di Papa Francesco evidenziano al meglio il valore spirituale della giornata del malato anche la Chiesa di Napoli ha celebrato oggi la ricorrenza voluta da Papa Giovanni Paolo II e nata l'11 febbraio 1993 nel giorno in cui cade anche la memoria liturgica della Madonna di Lourdes un momento speciale di preghiere e di condivisione e di offerta alla sofferenza il Cardinale Crescenzio Sepe ha scelto il CTO per far visita ai malati e consegnare l'oro dei rosari benedetti Debolezza significa anche impreziosire da una parte il senso di una sofferenza che ha una sua valenza e poi anche sensibilizzare tutti a far sì che ci sia un rispetto di quel valore della persona perché la persona è ammalata, però prima di essere ammalata è una persona Dopo la benedizione solenne, seguita alla preghiera del malato il Cardinale accompagnato da Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'azienda ospedaliera dei Colli e da Cosimo Maiolino, direttore medico del CTO di Napoli ha visitato gli ambulatori, il pronto soccorso, i reparti di ortopedia e neurochirurgia accogliere il malato, questa la mission del personale del nosocomio Il supporto psicologico al paziente è un compito istituzionale dei medici tutti del personale sanitario e di tutti Oggi è una giornata particolare, la sensibilità di sua eminenza lo dimostra è sempre vicino a noi, al nostro lavoro, alla sofferenza degli ammalati per cui siamo particolarmente contenti oggi di poter essere insieme con lui oggi in questa struttura che sicuramente è un punto di riferimento della sanità della nostra regione È un ospedale in cui si privilegia l'accoglienza degli ammalati sin dal primo accesso che è quello del pronto soccorso Lì è stato portato avanti un discorso strutturale e organizzativo per privilegiare oltre che l'assistenza che è la mission dell'azienda anche un'accoglienza che rende gli ammalati più tranquilli, più sereni in questa fase veramente critica Noi abbiamo in questo momento il tasso di obesità infantile maggiore di tutta Italia e di tutta Europa conseguentemente Questo è legato chiaramente a delle dinamiche socioculturali e anche di sostenibilità sociale compresa dell'alimentazione e dell'attività fisica È chiaro che questi sono territori in cui questa cosa va immediatamente presa in carico perché formalmente noi stiamo avendo dai dati Istat anche una ripresa diciamo della emigrazione delle popolazioni residenti per cui queste realtà rischiano nel tempo di avere sempre meno giovani e solo più anziani Fare attività fisica abbinata ad una corretta alimentazione aiuta a prevenire e ridurre l'obesità ed è fondamentale soprattutto per i più piccoli A tal fine Comune di Napoli e Ordine dei Medici intendono promuovere una serie di iniziative contro la sedentarietà ad illustrarle nella sala giunta del Comune gli assessori allo sport, ai parchi cittadini e alla salute Ciro Borriello, Luigi Fellaco e Francesca Menna Noi abbiamo aderito al protocollo delle Health City che sono proprio quei comuni che si prendono carico della salute dei cittadini e promuovono progetti per migliorare gli stili di vita e diciamo questo progetto è proprio in linea con questo principio Insieme all'assessore allo sport stiamo pensando c'è un progetto appunto di promuovere la possibilità di fare appunto delle maratone con i bambini eccetera per educarli al movimento che poi significa anche educarli allo stare insieme Un'obesità determinata nell'età infantile con i tassi che abbiamo superiori al 40% può determinare in futuro lo sviluppo di patologie croniche come l'ipertensione, il diabete e altre dinamiche anche a carico delle articolazioni perché aumentare il peso in eccedenza può creare anche quel problema soprattutto rispetto a una società che con l'uso del web attraverso i social come dire sta dando imprinting educativi alla sedentarietà è chiaro che il segnale importante a questo punto è quello di dare un segnale diverso alla popolazione recuperare la città, recuperare l'offerta che la città può dare per la mobilità quindi i parchi e i punti che sono stati oltretutto anche i centri sportivi che sono stati ristrutturati in occasione delle universiadi però soprattutto renderlo noto perché molti cittadini potrebbero non avere contezza di questa offerta La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione è quanto recita e prevede all'articolo 9 la nostra carta costituzionale Premesso che il dettato della legge fondamentale dello Stato non sempre trova piena o comunque efficace applicazione è importante che i principi in essa sanciti siano conosciuti e fatti propri anche e soprattutto dalle giovani generazioni affinché possano orientarne l'inserimento nel tessuto culturale non solo della nostra società Risponde a questo obiettivo l'iniziativa di stamane dell'ITIS Mattei di Isernia nell'aula magna dell'istituto la presentazione del progetto dalle aule parlamentari alle aule di scuola lezioni di costituzione Ulteriori step dell'appuntamento rivolto agli studenti l'intervento del direttore del museo del paleolitico di Isernia Enza Zullo incentrato sull'importanza della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e quello del giornalista e demologo Mauro Gioielli che ha affrontato il tema delle culture musicali raccontando anche dell'esperienza del gruppo di musica popolare il Tratturo da lui stesso fondato è un'esperienza che mi ha consentito di girare suonando praticamente in tutto il mondo quindi ritengo importante e significativa per gli studenti di questo istituto anche perché per chi non lo sapesse il Tratturo è nato anch'esso fra le aule di un istituto che è stato nello specifico il liceo scientifico di Isernia per quanto concerne strettamente l'idea di musica come arte, come cultura diciamo subito che la musica è un bene intangibile si tratta di cultura immateriale, la musica non si può toccare, la si può ascoltare quindi fa riferimento soprattutto a uno dei nostri sensi che è quello uditivo differenza di altre arti come può essere la pittura, la scultura che sono beni materiali, quindi oggetti e che fanno riferimento più che altro alla vista quindi arti visuali la musica è importantissima non possiamo immaginare un mondo senza musica sarebbe tutto molto più triste, molto più depressivo per cui lo ritengo importante e poi l'Italia ha una grandissima cultura musicale tantissimi grandi artisti e grandi musicisti sono stati italiani da quando è scoppiata la psicosi da coronavirus è calato il silenzio sulla vertenza dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli niente più aperture dei telegiornali né titoloni sulla carta stampata per non parlare del silenzio del governo e della politica in generale proprio dal governo si aspettavano risposte concrete e gli oltre 400 operai della fabbrica di lavatrici la cui chiusura è stata programmata il prossimo ottobre l'atmosfera man mano che passano i mesi è sempre più come devo dire siamo ancora più nervosi di prima la tensione sta salendo giorno per giorno perché sono otto mesi che questa trattativa va avanti e fino adesso nessuno sbocca non c'è da parte del governo fino a ottobre sì temiamo questo isolamento però il nostro motto è sempre noi non molliamo la tensione sta salendo e adesso non possiamo più garantire l'ordine pubblico qui in fabbrica in fabbrica si teme l'isolamento da parte della politica e del mondo dell'informazione e proprio per questo motivo è stata organizzata un'assemblea questa mattina per programmare nuove forme di lotta oltre al rischio e isolamento il timore che molti operai possono accettare da qui a ottobre le buone uscite dall'azienda americana l'azienda si sta mettendo tutti i bastoni tra le ruote per questa vertenza proprio per spaccare tutto il gruppo nazionale stiamo aspettando data certo per fare un'unica manifestazione per far vedere all'azienda che la forza noi siamo sempre tutti uniti come gruppo nessuno può capire cosa significa affrontare un'avvertenza così lunga per nove mesi è pesante, è veramente pesante il rischio grosso è che loro cerchino di dividerci di spaccarci la di della Whirlpool è andata a Siena per dire il problema è che la Whirlpool Napoli non sono le altre aziende all'assemblea ha partecipato Abubakar Sumahoro sindacalista dell'USB e autore del libro Umanità in rivolta sulla difesa dei diritti dei lavoratori i lavoratori innanzitutto devono essere protagonisti del proprio destino quindi creando unità allo stesso momento essere protagonisti del proprio destino vale a dire farsi in particolar modo sentire e non farsi ingannare vuol dire interloquire con tutti rimettendo al centro l'interesse dei lavoratori Cumuli di immondizia sparsi a macchia di leopardo in città il presidio di una parte dei lavoratori di Salerno Pulita che aderisce alla sigla sindacale Filas davanti al municipio gli operatori ecologici che incrociano le braccia non hanno raccolto la spazzatura stamani il comune di Salerno che nella giornata di ieri trasmette una nota invitando i cittadini a non conferire o è possibile la frazione dell'indifferenziata il braccio di ferro tra la partecipata e il palazzo di città rischia di andare avanti ad un'oltranza tra i motivi del contendere un piano industriale non ancora delineato ed alcuni accordi presi due settimane or sono che sarebbero stati disattesi in mezzo il pomo della discordia sulla stabilizzazione presunta o tale di un centinaio di lavoratori secondo l'assessore all'ambiente del comune di Salerno Angelo Caramano che rispetta ma non condivide modi e ragioni della protesta invece tutti i lavoratori di Salerno Pulita sono inquadrati e a tempo indeterminato ma lamentano un mancato inserimento dove parliamo di tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato quindi voglio dire un mancato inserimento dove allora noi dobbiamo cominciare a essere un poco più chiari e un po' più seri tutti quanti io ho grande rispetto ovviamente per i lavoratori e per chi li rappresenta e questa è una cosa che non verrà mai meno ovviamente non condivido una serie di cose non è un caso che voglio dire sia uno sciopero o un'assenzione o una protesta o un sit-in di alcuni e non di tutti quindi è evidente insomma che anche sotto questo punto di vista non c'è un filo comune nella nella percezione di quello che è il lavoro che sta facendo l'amministrazione comunale parliamo tutti di lavoratori stabilizzati quindi anche questa questa deformazione dell'informazione deve finire questi qua sono tutti ragazzi che hanno un ruolo chiaro all'interno della società fatta questa premessa è evidente che c'è una sofferenza perché c'è un'assenzione abbiamo parlato di stabilizzazione ma noi con la stabilizzazione abbiamo fatto una cosa secondo me epocale in questa città abbiamo stabilizzato c'è stato il passaggio di cantiere dei lavoratori del consorzio a Salerno Pulita quelli che stabilmente occupavano il territorio salernitano e parte dei cosiddetti intercantieri abbiamo stabilizzato gli interinali abbiamo stabilizzato i lavoratori delle cooperative che erano dediti allo spazzamento quindi tutto ciò che era funzionalmente collegato alla come dire al sistema della raccolta dei rifiuti dello spazzamento insomma senza andare tanto nel particolare ha trovato come dire attraverso anche la legge la legge regionale insomma ha trovato spazio e riconoscimento secondo il delegato regionale della fila Mimmo Merolla tanti invece sono i lavoratori ancora part time in ballo una manciata di ore lavorative e di fatti il concetto di precarietà dell'assessore Caramanno è un poco particolare per noi la precarietà è quando due lavoratori scendono a lavorare uno percepisce uno stipendio e un altro uno stipendio maggiorato quando c'è una sacca di 150 lavoratori che sono ancora a 34 ore quando da un anno e mezzo anche con l'assessore Caramanno si era stabilito che con la sottoscrizione del nuovo contratto sarebbero terminate tutte le precarietà che sono anche salariali è giunta a mezzogiorno di oggi la conferma ufficiale da Maurizio Di Mauro il direttore generale dell'azienda De Colli che comprende l'ospedale Cotugno di Napoli dove ieri un cittadino salernitano di 33 anni è stato trasportato seguendo il protocollo previsto per i casi sospetti di contagio da coronavirus esito negativo del tampone attraverso il quale si doveva verificare la possibile presunta presenza del virus che arriva dalla Cina e che sta terrorizzando i cittadini di tutto il mondo dalla Cina ha dichiarato di essere arrivato due giorni fa dopo una permanenza di due mesi dalla fidanzata anche il salernitano che si è recato ieri al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno con sintomi influenzali era già privo di febbre ieri sera quando è giunto da noi racconta al telefono il direttore generale di Mauro resterà in osservazione per altri 24 ore anche se il test effettuato esclude il coronavirus Sì, sì, il tampone il test di conferma è negativo quindi si esclude il coronavirus sarà diciamo il test evidenzia l'influenza diciamo per l'influenza stagionale il paziente già ieri sera è arrivato diciamo in discrete condizioni era già apiretico ieri sera quindi non aveva febbre e chiaramente è stato in osservazione fino a questo momento ora che continueremo la parte più terapeutica rispetto diciamo il test è un test specifico si fa un test di controllo diciamo a distanza di 24 ore però in linea di massima già la negatività del risultato che abbiamo avuto in questo momento ci fa escludere sicuramente che possa trattarsi di coronavirus ma guardi rispetto alla brutta pagina dovete guardare alla mia destra in aula perché quando ho assistito a consigliere comunale di opposizione che applaudivano gridavano vergogna onestamente mi sono sentito in difficoltà nei confronti della città al di là di quelle che sono le proteste degli operatori ambulanti che seppur forse sopra le righe almeno sono giustificate ma quando l'opposizione si da un tono quasi da tifoseria onestamente non mostra un buon lato alla città c'è una cosa su cui non transigo quando si mette in discussione la mia persona la mia onestà la mia onorabilità su questo non ci sono deroghe da poter concedere ad alcuno quando mi si critica legittimamente quando non si condividono le mie posizioni quello è legittimo e fa parte anche del nostro mestiere quando invece viene messa in discussione la propria persona e soprattutto la figura del sindaco io devo rivendicare ragioni di una comunità che mi ha scelto e difendo prima Avellino e prima gli Avellinesi e poi il resto da cinque anni cioè dal 2015 anno della costituzione imponeva la sua mediazione agli storici operatori del mercato dei fiori zona commerciale florovivaistica più importante del sud Italia che si estende tra Castellammare di Stabio e Pompei costringendoli a non affidare più il trasporto e il facchinaggio ai singoli autotrasportatori la società di intermediazione chiamata NG Service ritenuta dalla DDA di Napoli appartenente al clan Cesarano è stata sequestrata oggi dalla guardia di finanza di Torre Annunziata in collaborazione con i carabinieri definita dal GIP un'impresa di Camorra era amministrata da Antonio Martone e Giovanni Esposito cognati di Luigi Di Martino detto il profeta il sud Alizio camorristico Stabiese ha imposto la sua opera di mediazione tra i diversi operatori economici costringendo i commercianti ad affidare il servizio di trasporto non più ai singoli autotrasportatori ma appunto alla NG Service che provvedeva a distribuire le commesse in questo modo è stato realizzato un vero e proprio monopolio sulla spedizione di fiori bulbi e vasellame nonché sullo scarico delle merci giunte al mercato a bordo degli autoarticolati ottenendo un immediato exploit del fatturato e questo avvalendosi anche della forza dell'intimidazione attraverso minacce e pestaggi punitivi il sequestro preventivo ha riguardato le quote societari l'azienda e tutti i beni riconducibili alla NG Service che nel 2018 aveva raggiunto un volume d'affari di quasi 2 milioni di euro il vano contatori di una palazzina trasformato in un vero e proprio arsenale questa è la scoperta dei carabinieri della tenenza di Sant'Antimo che hanno rinvenuto e sequestrato due rivoltelle una Magnum 357 una Col 38 altre armi da fuoco tra cui fucili da caccia berette e proiettili di vario calibro tra le armi anche razzi jugoslavi da guerra una giubba e un berretto ed una paletta della polizia municipale del comune di Dragoni e ben 820 grammi di marijuana suddivisi in 9 confezioni non si conoscono i responsabili dell'illecito pertanto il sequestro è stato operato a carico di ignoti le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue solo frana più che un torrente una discalica al cielo aperto a dispetto dei tavoli di concertazione e dei consigli comunali congiunti per contrastare il fenomeno dell'inquinamento del corso d'acqua il torrente continua ad assumere colorazioni innaturali nelle scorse ore una schiuma bianca in maleodorante ha invaso il solo frana nel tratto tra Solofa e Montoro si tratta dell'ennesimo episodio a fotografare lo stato di forte degrado delle acque ci aveva del resto pensato legambiente con goletta dei fiumi 6 i punti campionati il prelievo alla sorgente in località Bocche a Solofra aveva mostrato un valore di qualità elevato al contrario il punto successivo nel comune di Montoro aveva ottenuto un punteggio di qualità scarsa i due punti situati nel comune di Mercato Sanseverino avevano mostrato uno stato di qualità sufficiente e scarso nei punti successivi prelevati nel comune di Roccapiemonte interno c'era inferiore la situazione del torrente risultava peggiore infatti per entrambi furono assegnati punteggi tali da determinare uno stato di qualità cattivo un po' un po' amici 3B Meteo benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che ancora vedrà sull'Europa centro-settentronale venti forti associati alla tempesta Ciaro a quello che resta di lei invece alle nostre parti situazione più tranquilla latitudine mediterranee pressione atmosferica tra l'altro in temporaneo aumento controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia qualche nuvola di passaggio ci sarà ancora al centro-sud ma in realtà nubi di poco conto non porteranno precipitazioni significative controlliamo proprio le piogge previste sull'Italia poco o nulla da segnalare se vai qualche fiocco di neve sulle alpi di confine soprattutto in alto adige ma per il resto ripeto situazione buona ci attende quindi un mercoledì nel complesso di bel tempo un po' in tutta Italia ancora qualche annuvolamento diciamo sarà presente al centro-sud dove soffriranno ancora venti di maestrale localmente sostenuti ma in attenuazione e tra l'altro temperature che si perdono magari 1 o 2 gradi ma rimangono sopra le medie del periodo che parla ma